L'ente provinciale Terramano prosegue nell'iter di progettazione e realizzazione della strada panoramica del Gran Sasso, il collegamento tra l'autostrada 24 e Pietra Gamela passando per la Valle Siciliana. Il nuovo passaggio riguarda il bando di progettazione dell'opera con base di gara di 379 mila euro. Il tracciato è di circa 20 chilometri percorribili in una ventina di minuti e del costo di circa 20 milioni di euro già finanziati e si snoda dal casello di Colledara a lungo la SP 491 attraversando l'abitato di Onnano Grande e Tossicia per poi toccare Tozzanella, Flaminiano, Sant'Andrea, Aquilano, Casette, Cusciano di Montorio, Cerqueto di Fano e infine Pietra Gamela innestandosi infine sulla variante che conduce ai Pratiitivo. Una via di collegamento su cui il presidente della provincia Diego di Bonaventura ha annunciato che dopo Pasqua ci sarà un incontro con i sindaci di comuni interessati, le associazioni ambientaliste, il comitato del SIE e il Parco Gran Sasso Laga per illustrare le linee guida progettuali e svolgere un confronto di merito. È un sogno possiamo dire che diventa realtà, è un altro tassello importante che ci porterà ad avere il progetto esecutivo definitivo, il cosiddetto progetto cantierabile che fra qualche mese troverà spazio dai tanti finanziamenti che stanno arrivando da Roma e dall'Europa. Lo dicevamo, era un sogno, una storia che qualcuno mi racconta in provincia da 40-50 anni se ne parlava di questa bretella strategica che collega la A24 fino a Montorgio. Ed è importante che quei paesi montani, diciamo sempre dello sviluppo della montagna, la tutela, senza altre strade, infrastrutture importanti, quei territori sono destinati a morire. Questa è la speranza della rinascita e poi sarà una strada panoramica. Io sono convinto che fra qualche anno, anche per distenderci, faremo una passeggiata anche con i mezzi elettrici e le vici per rilassarci. Abbiamo bisogno di stemperare. Io lo dico, la visione strategica passa da queste infrastrutture ma in parallelo stiamo continuando a mantenere i lavori sulle strade provinciali, con le famose messe in sicurezza. Non sono d'accordo con lei però, gli ambientalisti. Ma guardate, sapete che sono partito nel mio comune sempre con la tutela ambientale. Noi dobbiamo capire dov'è il confine tra la tutela ambientale e lo sviluppo. Oggi non ci sarebbero le comunità che vedete senza una strada. Sicuramente il progetto tutelerà i paesaggi protetti, i vincoli che già si sono ma non possiamo non proteggere le comunità che vivono su quella montagna. C'è la solita strada che io facevo quando ero piccoletto. Se dovesse mancare quella strada, quelle persone, quei paesi, quei comuni vengono qua giù con gli elicotteri?